in principio le cicogne consegnavano i bambini non sempre è stato facile per quanto difficile o impossibile o brutale o arduo o inumano o impervio noi avremmo vinto le avversità grazie al cielo quello non lo facciamo più ora le cicogne recapitano pacchi per cornerstore.com i nuovi cellulari consegnare sempre orfana tulip tulip è sufficiente orfana mia dolora c'è un ultimo bambino da consegnare è una famiglia che non ha mai ricevuto il bambino che aveva richiesto se lei riuscirà a trovare la sua famiglia allora forse io potrò trovare la mia facciamolo ti mostro come vola scusi prego sono un uccello so benissimo come si non lo so non lo so hai il sinile bagnato si me la sono fatta sotto quella bambina è pericolosa lupi perfetto la mia nemesi il vetro gli uccelli non vedono il vetro sinistra destra sinistra non funziona davvero dono d'arco l'ho costruito per trovare i miei genitori li troverai non preoccuparti tesoro andrà tutto bene via branco formazione sottomarino che succede cosa non l'ho mai visto fare nei documentari no 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 sa di fiori va bene fatti da parte l'ami io l'amo tu l'ami anch'io l'amo bravo 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 grazie a tutti